Nato nel 1993 ha iniziato ad allenarsi nella scuola di circo di Shanghai nel 2001, nella quale ancora sta perfezionandosi. Al nostro festival si esibisce nel verticalismo, disciplina grazie alla quale le scuole di circo orientali si sono sempre distinte a livello internazionale. Appunto per la Cina, in rappresentanza della scuola di circo di Shanghai, Kai Yong. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.